Con il fischio dell'arbitro, giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata, giusto il risultato di parità, ma insomma... Luca che ne pensi della partita di oggi? Se entrambe le squadre avessero giocato rispettando il loro potenziale, non ci sarebbe stata storia. È stata una gara deludente, soprattutto per una delle due compagini. Il pareggio ci sta tutto. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie a te Fabio. Grazie. Grazie.